Micromachine Aquila Nera Attacco! Qual è il suo segreto? È invisibile e irata Missione compiuta! Ritorno alla base! Aquila Nera Micromachines Scopri il mistero di Aquila Nera Pericolo di attacco! Il jet diventa la base aerea che nasconde piste di decollo e atterraggio Missili sparanti, decollo, truppe in piattaforma Pronti per una nuova missione! Magnifica come un'acqua, nera come la notte Micromachine Aquila Nera Pronti!